A Piazza del Popolo, a Pesaro, si è tenuta una manifestazione alle 10.30 promossa da Chiedimi Come Sto e dalla Fondazione Fiocchetto Lilla per chiedere al Governo un maggior impegno sui comportamenti derivati dai disturbi alimentari e di potenziare i centri perché dopo la pandemia le richieste di aiuto sono aumentate del 30%. Dopo l'annuncio di questa mobilitazione il Ministro della Salute Schillaci ha comunicato che sanzierà 10 milioni di euro per questo 2024. Purtroppo non basta, ci fa piacere che la voce della protesta sia arrivata ma non basta perché servono investimenti strutturali e continuativi. Pensiamo cosa significhi per un centro non poter assumere a tempo indeterminato psichiatri ai quali i pazienti si affidano, iniziano un percorso di recupero e di terapia magari persone affette da disturbi quali bulimia, anoressia, vigoressia e poi all'improvviso durante il percorso si ritrovano senza lo psichiatra perché scade il contratto. Non basta quindi uno stanziamento annuale e in particolare anche a Pesaro, a Galantara, al centro disturbi alimentari chiediamo un vero e proprio potenziamento. Una mamma si sta dando molto da fare per far sì che genitori, giovani e famiglie delle persone che soffrono di disturbi alimentari non si sentano lasciati soli, che abbiano un'associazione fatta da genitori che hanno vissuto la stessa esperienza per parlare insieme, crescere e dare un aiuto accompagnati da persone competenti. Abbiamo fatto diversi incontri e in modo particolare abbiamo scelto come strada in questo momento di appoggiarci all'associazione FADA di Fermo, che è un'associazione di genitori volontari che hanno i figli che stanno vivendo lo stesso problema dei disturbi alimentari. Quindi siamo già un certo numero di genitori in questo momento uniti da un gruppo WhatsApp con molta semplicità e umiltà e con il loro aiuto inizieremo a breve a fare questi incontri di sostegno.